Oddio che spavento Ho fatto prendere un colpo, scemo Ciao ragazzi, oggi siamo con A e B E oggi andiamo a imparare l'alfabeto Ciao A B C B E F G Noi l'alfabeto l'impariamo così Allora, in questo bellissimo e fantastico video andremo a fare Gravity Che è un minigame che ho appena scoperto ma non è vero Perché tanto tempo che lo faccio non è vero manco nella vita E ogni volta che moriremo Prenderemo in bocca un cubetto di ghiaccio Però, non lo so, perché io ovviamente non è che c'ho La fabbrica dei polaretti a casa, quindi non è che c'ho Chi cazzo è che è citofono, ti vaffanculo, non rispondo Cosa fa, cos'era? Cosa? Per Elisa? Ma infatti si poco, che cazzo è? Aspetta un attimo Perché c'ho per Elisa come citofono? Io mi chiaccio tipo Una roba che mi esplode le orecchie quando suona Dicevamo io non è che c'ho la fabbrica di polaretti a casa Quindi la mia quantità di ghiaccio abbastanza di tutta Ma non fa niente Raga forse è meglio ogni due morti un cubetto No no uno uno Siediamo quelle facili tranquillo Ok iniziato E' venuta la 2, siiii E vai, e vai Facile, dove si passa raga? Perché io veramente non le so queste cose E ti passa a sinistra Sinistra in basso a destra E' un complotto per farmi ingogliare i ghiaccio fino a domani mattina Ma perchè si mettono tutti quanti sul cubetto azzurro? E' speciale? Se ti metti sul cubetto azzurro e arrivi direttamente alla fine Senza di aver fare questo Preparo la mia guancia, ok Good luck Guarda che non... No porco Sei già morto? No non è vero Aaaa Sai no finchè uno Ciao A tutti Ok Ce l'ho fatta L'importante è che non ti ha fissuto il palato Cosa? Niente Lo ci ha posto ragazzi Benvenuti in questo modo Io sono morto Ok ragazzi Massi come si passa su questo? Eeeeeee Quello è facilissimo Cioè basta che tu stai al centro Tendiamo uno piccolo Cosa? In che sen- In che sen- Ma la gente qui è già finito? Non può capire non è possibile però Per favore Ah ah Io l'aggo Io invece mangio i gatti Ho finito sono arrivata terza Caffanculo qua non ho mai la puoi becchire il gatto Cosa? Dai ti osservo Vai 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 Fiero Ah beh dai non sei messo così male POKO CUE! Mi hai così tanti ricubetti? Non mi sento la botta! Ma questo è facile, come fai a sbagliare? Ok ce l'hai fatta, bravo dai! Buona prossima! Questo è facile, sei morto? Questo è facile Luigi! O CASTO Può senta che questo rumore… Non si ha formato la querca! La querca! La querca su Gagarotzto! SIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII Ok... O VINCO! Un po' si Lo faccio Eccomi Ho sparato già lo raggio che madonna mia E' un po' leon pare Raga corrente Grazie No io questa con l'aereo Non lo so fare Se lo sa fatte penso io Io finisco l'episaglio qua praticamente Bella se volete le altre mappe andate su un altro video Vedete per un quarto d'ora questa mappa Penso che abbia detto seguirei Teo segui me Teo segui me Ti guardo proprio Ti seguo eh Se non laghi ti riesca a seguire pure io Ecco sei rimasta in cielo considera Sei rimasta qua Di qua dove Non vedo una sega Ma dove che sei hai trapassato l'aereo Charlie Dove sono morto No ragazzi questo con l'aereo Non lo so proprio fare Non sono morto Non sono morto Non sono fatto Non ne vede un cazzo Stai in culo Sto atteggiando sulla sua mappa Come lo pezzo Ma che cazzo è di mappa di merda? Guarda Ma dovevo Tu ce l'hai fatta l'aereo? Ma chi? Da mo No Io Si Hai fatto? Dovete passare da sotto le ali, da sotto le ali, raga Eh sì, passiamo sotto le ali Sotto le ali Ti ha detto? Non so, penso che abbia detto che non basta al super buono Oh, ho detto, mannaggia che la cucana non ti riesco, ho avvocato almeno in carriera Che non ti giude Raga, l'algo non riesco a fare bilinze Ah, curaggi eh, curaggi, curaggi Ma dai, aggassi io Raga, che palle, non riesco a giocare Ma qualcuno ne sa giocare? Ecco, ecco, qualcuno ne sa giocare Laga, sto male Ah, vabbè, va Ma, porca l'aero, la mongolfiera Perché? Perché la mongolfiera Raga, guardate chi arriva prima Guardate chi arriva prima Oh, muoio Ma io prima, malango Sì, sì, va bene, i soliti scuse Dai, adesso assisto Matteo e lo faccio vincere Sì, vediamo dove sei Inferno è il mio E ancora l'aero Ah, che cazzo Comunque è giusto per quella strada Finite cubetti invece сà Ok Ah 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 All'ora Non capisco A oca A oca A oca No no antero da quella parte Devi andare verso la mongolpina rossa Non c'entrano più Non c'entrano più Non c'entrano più La scelta la bocca Non c'entrano saccadelli Sacha Grey Sacha Grey Ce l'ha fatta Minchia mi raga l'ha fatta il primo Ti ho voglio negato Ho capito di bloccare D'accordo con te Buona vita Buona vita Buona vita Tu hai capito? Sì sì Iscrivetevi al mio canale E seguitemi su Instagram Che sims 4 Nuovo account aperto Ci sono I miei sims Sono tutte bellissime Io vi giuro che poco poco E il lavandino era tipo Drago L'avevo sfornato Questo geloraggio Cioè questa è la Proprio pesante Questa è una cosa assurda Sì il lavandino era tipo Era tipo drago Sì il lavandino era tipo di luogo Pronti? Chi è che spruzza cuori? Oh Antico romano Chi state? L'antico romano L'antico romano Andiamo portato in salvo Ok ragazzi quindi per questo video è tutto Spero che questo video vi sia piaciuto E niente Non ho più la bocca Devo imparare a parlare Quindi A chi le antico romano E A se non mi piace Iscrivetevi Ancora non fai scritti Commentate In questo video La linea allo studio Ciao ciao Bella Linea allo studio Linea allo studio Studio una linea Studio una linea Io studio le linee Studi la linea? Tu studi la linea? Ma c'è di dove? Ah studio la linea Ok Ok Ok